Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo a essere su LSPDFR In questo episodio siamo degli agenti della polizia italiana finalmente ragazzi con la moto della polizia stradale italiana Che eccola qua, è fantastica veramente, in descrizione ovviamente, oh che diamine Comunque ragazzi guardatemi con gli occhiali tipo oversize, gli occhiali veramente più grandi della mia faccia ad essere un boss qui Vabbè c'è addirittura un tizio con la vespa in autostrada che è illegalissimo E mi sa che adesso non andremo a fermare ragazzi Comunque quello che faremo oggi sarà una normale giornata di pattuglia con la moto e con un compagno anche che dopo chiameremo Faremo dei giri in autostrada soprattutto in queste zone, monitoreremo la situazione, controlleremo i veicoli, risponderemo ad alcune chiamate E niente comunque guardate che bellissima giornata che è oggi e che scena bellissima che c'è qua in giro Niente quindi ragazzi direi di salire sopra la nostra moto, aspettate che mi metto il casco, perfetto ora si che si ragiona E direi che possiamo finalmente partire, vediamo se quel tizio ormai in vespa l'ho perso perché mi son fermato a parlare ormai è andato via Comunque vediamo se la centrale ci contatta con qualcosa, non lasciatemi senza niente ok ci sono degli occupanti di un veicolo ricercati Ok abbiamo trovato un laboratorio di metanfetamina però ragazzi voglio essere oggi più un poliziotto così d'auto Eccolo quello con la vespa, eccolo ma quanti con la vespa avevano? Ma non lo sanno che non si può Volevo fermare te, avanza, guardate ho fermato tutte le macchine dell'autostrada Tu, ok, dove hai la targa? Mamma mia come mi cieco io qua sotto, aspettate che non riesco a vedere la targa Ah, dovrei avergli segnalato di fermarsi quindi ora teoricamente dovrebbe essere ok tutto a posto Dato che siamo in moto ragazzi non ho il computer della polizia qua perché avete, cioè non c'è il computer della polizia Però vedete che ho un microfonino che compare dalla moto, quello penso che posso usarlo per farmi sentire attraverso, al di fuori diciamo Quindi salutiamolo, ma cosa? Ma cosa? Io non ho cancellato niente Aspettate, qui c'è veramente un problema, ok direi che scendo, scendo dai scendo Proviamo allora a utilizzare la radio della polizia, ok perfetto E selezioniamo appunto un bellissimo controllo sulla targa, è un faggio 2 Di targa 85, november, eco, alfa, 184, registrato a nome di Clydas Daunoras, ok Clydas Daunoras, quindi il veicolo corrisponde a lui Però ragazzi direi di fargli un ticket perché sta andando in autostrada con un Vespino Qua è veramente dura ragazzi da scegliere Eccolo qua, veicolo che non può stare su questa strada, perfetto Ok, quindi sei in autostrada e sono le 17 e tu stavi guidando con un Vespino Ecco fatto, benissimo puoi andare ma non in autostrada però spero Quindi ragazzi, ritorniamo sul nostro veicolo Intanto vi faccio vedere anche com'è fatto dentro perché è veramente bellissimo Cioè guardate che figata al microfono, c'è tutto qua, è davvero incredibile Aspettate che sento delle boh, cosa sta succedendo lì? Ma ancora stetissi con le pale, mannaggia io, io non, ma che Fermo dove sei, fermo dove sei, mani in alto, devo sparare, devo sparare, fermo, 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 fermo Mani in alto, abbasso la pala e ok, fermo lì dove sei, perfetto ragazzi, arrestiamolo Ma che diamine sta succedendo in questa città? Cioè veramente io ogni volta che esco fuori da quella che è la città, dal centro città E faccio il puliziotto da qualche altra parte Vattene tipo immediatamente camion che mi stai dando un fastidio Ah ci sono sti tizi che veramente io adesso gli sparo perché sta per fare del male ad un'altra persona E a me compreso mi mettono sotto Aspetta, aspetta, no, no aspetta No, mannaggia non ci credo Mamma mia non ci credo, non fatemi urlare che se no qua Ma guardate quella tizia con rastrello mi sta dando in testa Bene, quindi l'unica cosa che dovremmo fare adesso è vedere se ci possono dare un nuovo veicolo Perché mi sa che qua, ragazzi, aspetta eh Benissimo, allora abbiamo, uh ok, la Giulietta Se no la Jeep che sarebbe incredibile Però oggi ragazzi facciamo, usiamo la moto E quindi teniamoci a questa selezione continua Perfetto, io direi ragazzi che chiamiamo un'altra squadra che ci aiuti Perché in quel caso un'altra squadra sarebbe stata vitale tra la vita e la morte Quindi io adesso la chiamo immediatamente un'altra pattuglia Che ci può scortare in queste missioni che andiamo a fare adesso Seconda cosa ragazzi, vedete che qua c'è il sistema della corte Vi ricordate di Botost? Botost è quello che nell'ultimo episodio abbiamo arrestato mi pare O qualcosa del genere, comunque finito nella corte di San Andreas E a quanto pare il giudice l'ha trovato non colpevole Della condanna di aver organizzato un'arena con dei cani che stavano lottando Vi ricordate dove eravamo andati noi? Che c'erano i cani che avevano ucciso delle persone ed erano morti anche Era durante la live A quanto pare non si sa per quale motivo ma l'hanno scarcerato completamente Non ha assolutamente nessun problema Botost Quindi meglio per lui però non so effettivamente a chi adesso andrà addossata la colpa Perché noi abbiamo visto lui che era quello che stava contando i soldi O altre robe del genere delle scommesse vi ricordate Quindi boh non ne ho la più palida idea Comunque ragazzi adesso direi di chiamare l'altra squadra Ok ragazzi allora senza perdere altro tempo Vediamo se possiamo selezionare le squadre Sì scegliamo allora questa è la sicurezza privata No Vediamo se c'è polizia Ok polizia Unità direi una unità sola un'altra persona che ci accompagna Con il veicolo la moto della polizia esattamente Armata certamente armata Shotgun no SMG neanche Fucile d'assalto no Scegliamo una pistola pesante magari per lui RPG Scegliamo invece il teaser come seconda arma E poi direi che niente Facciamolo arrivare qua Ecco qua ragazzi la prima squadra è arrivata Ora gli diciamo di scortare il nostro veicolo Perfetto quindi adesso dovrebbero scortare Dovrebbe lui scortare il nostro veicolo E direi che possiamo rispondere a un'altra chiamata Intanto guardate si è fatto davvero buio qua al momento Ok ragazzi abbiamo una chiamata C'è un cliente che si rifiuta di pagare addirittura Quindi allacciamoci le cinture Vediamo vedete che siamo scortati dall'altro agente Sempre nella moto che sarà molto molto utile Molto conveniente in questi casi Ora purtroppo Wow diamine Wow scusa Ok sono andato veramente troppo Troppo bruscamente a destra Però si trova tra 6 km e mezzo Quindi sarà piuttosto lontano Non so per quale motivo hanno chiamato noi Come agenti più vicini per rispondere alla chiamata Ok ragazzi ci siamo quasi Ora non so per quale motivo Vedete abbiamo fatto tutto il giro di Los Santos Però non so Forse c'è un negozio Boh comunque andiamo a destra Uo ho preso il cartello giusto giusto È molto più pericoloso ragazzi Fare la gente sulle moto Che la gente in macchina Perché la gente sulle moto Appena prendiamo uno spigolo O una macchina di troppo Voliamo Comunque Eccoci qua siamo arrivati Il nostro compagno ormai L'abbiamo lasciato indietro Perché ci ha messo veramente troppo tempo Se no non finiva più oggi Comunque ci troviamo su un molo Adesso non mi ricordo bene Come si chiama questa parte della città Se non sbaglio si chiama tipo Schumash O qualcosa del genere Però Adesso andiamo a verificare Qual è il problema Guardate intanto che bellissima serata Che bel cielo stellato Che c'è veramente Nella realtà non esiste Un cielo stellato così Però comunque Ok vedo due persone Perfetto Vediamo qual è l'accaduto Salve finalmente un agente Eh sì Ci sono dovuto venire Dall'altra parte della città Veramente Allora Da quello che sembra Ok C'è stato un capello nel cibo E Gli hanno servito Secondo lui Del cibo scaduto E quindi a questo punto Lui non vuole pagare Assolutamente il conto E adesso ci tocca a noi decidere Ha una foto anche con il capello Dentro il piatto Quindi ragazzi L'unica cosa che possiamo fare È decidere Se lui deve pagare Oppure se non deve pagare Secondo me non deve pagare Però devono dargli Un altro cibo Un altro piatto indietro Quindi io direi Ragazzi di fare così Ok Il sospetto quindi Mi ha ringraziato E mi ha detto Che sono stato ottimo Quindi lui non paga Però gli hanno detto Di non tornare mai più Ragazzi che diamine Sta facendo Ragazzi che diamine Ma sul suo ristorante Ma ci credo Che non pagano Ma oddio Non ci credo Signore Lei no Questi sono atti uscini In luogo pubblico C'è un bagno Per fare tutte queste cose Adesso Adesso capisco Perché nessuno vuole pagare il conto Guarda Lei piscia sul suo angolo Del bar Non ci credo Adesso Adesso ragazzi Mi sa che dovremmo controllare Se è ubriaco Oppure Se è fatto O robe del genere Perché Ok Stanno andando a terra Di per sé Guardate sul suo piscio Gli stanno Con la faccia Sulla suo pipì Vabbè Ok Questo lo portiamo con noi Lester Brady Product Ok Lui si chiama proprio Lester Brady Product Ok Tanto il mio agente di supporto È arrivato Finalmente Era ora ragazzo Chiamiamo un trasporto per lui Perché naturalmente Nella moto Non possiamo utilizzarlo Benissimo ragazzi Quindi il nostro 1014 La scorta È proprio qua Dove io ho parcheggiato la moto Direi di tornare nella nostra moto E aspettare semplicemente Che portino via il tizio Ok Eccoci qua Ci sono un bel po' di agenti Adesso effettivamente Non so perché sono arrivati Due agenti per il trasporto E si sono incrociati Se ne sono andati Non ci È qui il tizio Dove state andando Non ci credo ragazzi Sono arrivati in due Si sono incrociati Se ne sono pure andati Comunque ecco qua Il nostro La nostra scorta Ovviamente questo veicolo Vedete non può essere utilizzato Per il trasporto Del sospetto Quindi dovremo aspettare Che tornino indietro Ok eccole lì Si stanno riproducendo Ok Adesso lo va a prendere E se lo porta via Quindi ragazzi Allacciamoci le cinture Wow bello questo beach buggy Bellissimo Andiamo a vedere Se c'è qualcos'altro per noi C'è un agente Che ha attivato Il pulsante antipanico Che non so effettivamente Che cosa significhi Perché non mi è mai capitato Nulla di tutto ciò Però Sembrerebbe che ci sia Un agente in vero pericolo Perché se usa il bottone antipanico Significa che veramente Il pulsante È una cosa che bisogna usare Solamente in casi gravissimi Di morte Eccolo qua Ok ragazzi Vedo Vedo la gente Che cosa sta succedendo È uno sceriffo questo Sono arrivato il più velocemente possibile È tutto a posto Ok lui mi dice che È tutto a posto Di che cosa sto parlando Come Hai premuto il pulsante Di emergenza Oh no L'ho fatto Ops Oh cavolo ragazzi Aspettate abbiamo un problema qui Allora quanto pare Wow C'è la gente che gli sta dando Davvero dal filo da torcere A questo tizio Via mi gli ha sparato in testa Solo perché gli è andato contro con l'auto Non voglio saperne niente Io scappiamo Andiamocene via Guardate quanti agenti Per questa cosa Il tuo tizio Si è seduto sopra il pulsante Dell'emergenza E ha causato un casino Ragazzi Un casino in mano E spero che gli facciano pagare Per questa cosa che ha fatto Non so come Devo aspettare che mi chiamino Ok c'è un guidatore sotto Oh Ma che cacchio sta facendo No veramente oggi Non so che Ma cosa avete tutti Cos'hai No questo lo doveva C'è ragazzi Ma che c'è Oh Ma allora Ma mi sta Mi sta picchiando Mi sta picchiando Fermo Uhhh Diamine 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 Ok ok L'ho ucciso Ragazzi mi serve Mi serve assolutamente un'ambulanza Mi serve un'ambulanza Vediamo se Sono già qua Non ci credo Neanche finito il tempo di dirlo Ed era già qua Ok vediamo se riescono a salvare la vita Almeno a quest'uomo Vediamo che cosa riescono a fare Gli ho dato un colpo in testa Che non era neanche mia intenzione Dargli Quindi vediamo se Wow 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 Ma che diamine fa questo Se è andato con l'ambulanza Cosa Guardate come guarda l'ambulanza E la montagna come per dire Ma devo farmela a piedi adesso Tu devi salvare quell'uomo Fino alla fine Non hai capito Lui è morto Purtroppo rubiamo gli soldi Un secondo E adesso direi Tornare sul nostro veicolo Mettiamoci il casco Allacciamoci le cinture E vediamo che cos'altro A questo punto c'è per noi Che è quello che volevamo fare prima Prima che uno Mi pisciasse sul Davanti della moto Richiede un'assistenza Tra un chilometro Ok A Tongva Hills Che non ho idea Non ci sono mai stato Penso Oh ragazzi Non ci credo Ma non siamo caduti Neanche una volta Io pensavo che in questo episodio Saremmo caduti continuamente E invece non siamo caduti Neanche una volta Queste moto sono fatte Anche se andiamo a sbattere Attutisce un po' Non so neanche come Però guardate che figata di strada Che è questa Veramente bellissima Ah ok Si è buggato tutto Abbiamo un grosso Grosso problema Abbiamo 500.000 agenti Ed un frame rate Di 10 fps Al secondo Ah mi sa che crash adesso Ma che cosa Che cosa Cosa sei Ma che cosa sei Ma ragazzi Ma che cosa Ma che cosa vuoi pure Ma Ma Mannaggia Ma oggi veramente Fermo Ok ragazzi Ho risolto Per fortuna Quindi adesso Vediamo se c'è qualche altra Chiamata interessante Uh ce n'è una Giusto giusto Qua vicino a noi Ok abbiamo un inseguimento Speriamo che non sia Un inseguimento in bici Ragazzi Uh ok Quale miglior veicolo Da inseguire Se non una moto Come la nostra Quindi attiviamo le sirene Adesso vedo due persone Su una specie Una sottospecie di moto Che non so per quale motivo Stanno scappando Alla velocità di una lumaca Dalla polizia Quindi adesso ragazzi Facciamo finta di essere Spaventati Che non riusciamo a fermarli E quindi chiamiamo Un po' di vetture Perché veramente ragazzi Questi mi sa che saranno Così facili da fermare Basta un colpicino di pistola E partono via come niente Come burro Quindi direi di farla Leggermente più interessante Spariamogli alle gomme Aspettate Sto facendo il terzo Il dito medio Ma in realtà volevo Vediamo se riesco a sparargli Alla ruota di dietro Senza Ok Piuttosto difficile al momento Ok ho sbagliato Sbagliato Wow C'ha sta gente che corre Ragazzi un casino Poi siamo per le vallate Qua siamo per Siamo a Vinewood Praticamente Ok Vediamo se riusciamo Direi di attivare un blocco stradale Tra poco Se non riusciamo Perché ragazzi in città Poi diventa abbastanza pericoloso Attenzione Secondo me vanno a sbattere Uh l'abbiamo preso L'abbiamo preso ragazzi Abbiamo preso la ruota Adesso non riusciranno a far Wow Diamine Cosa diamine Cosa faceva quel poliziotto Lì aspettate Aspettate C'è della gente che sta driftando Nella moto Guardate non riusci a muoversi Che ha la gomma Completamente a terra Gli sparo pure alla ruota davanti Dato che è fermo Aspettate che ho qualche problema Con gli altri Con i civili Perché non voglio assolutamente Colpire i civili Perfetto preso 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 Adesso hanno tutte e due le gomme Adesso voglio vederli ragazzi Adesso mi diverto Vediamo come andranno avanti Senza due gomme Solamente col cerchione Adesso secondo me Se gli do addosso No Beh se la cavano abbastanza Anche meglio di quello che pensavo Direi di terminare Questa chiamata qua Perché si sta prolungando Un po' l'inseguimento Ed potrebbe essere pericoloso Per le altre persone Quindi fermiamolo immediatamente Uno è andato E due sono andati E quindi adesso ragazzi Procediamo ad arrestarli È stato divertente Ci siamo divertiti Finché abbiamo potuto Però adesso Mani in alto Perché si fa seria la situazione Fermo Vai a terra Lentamente Bravo L'abbiamo colpito Vedete sulla chiappa E adesso infatti Lo arrestiamo Perché si è fermato Naturalmente L'inseguimento in moto Non è mai la scelta giusta Capellone Bene ragazzi Quindi Michael Sharp Direi di chiamare un trasporto Per lui E solamente per lui Perché l'altro L'hanno preso Gli altri agenti Vedete che l'hanno Arrestato loro La mia scorta Sia completamente in panico Perché gli avevo detto Di venire da me Ok è lì È dove siamo partiti prima Vediamo se l'agente lo sceriffo Lo prende Lo preleva E lo porta in centrale Così gli faranno alcune domande No Lo snobba completamente Se ne va per il suo Se ne va per i fatti su Ah ok c'è un altro agente Per prenderlo Voglio vedere una cosa Abbiamo una chiamata Molto importante Sembrerebbe essere Finalmente un vero camion Che è stato rubato Con dei denari Cioè finalmente In realtà no Però abbiamo Veramente un Ok eccolo qua Lo vedo Lo ho individuato Adesso vediamo Se effettivamente è stato rubato Oppure no Ma dalla velocità Con cui sta scappando Penso proprio di sì Ok ragazzi Siamo all'inseguimento Abbiamo un 1044 Un veicolo rubato Davanti a me Direi ragazzi Di procedere Dato che questo è un veicolo blindato E le persone all'interno Potrebbero essere anche Naturalmente armate Dato che sono riuscite A rubare un veicolo Da altri agenti armati Quindi mettiamoci davanti a lui Vediamo se hanno il coraggio Ok sì Hanno il coraggio Di venirci addosso Però vediamo se riesco A fermarli prima Ragazzi Wow che scemo Che scemo Ragazzi non ci credo Che stupido Gli ho puntato una pistola Sapete che quei vetri Sono antiproiettili Vero però Lui si è sentito minacciato All'interno Perché magari non sapeva Che fossero antiproiettili E siamo riusciti Ad arrestarlo così Io pensavo ragazzi Che apprendesse Cioè non so Quanto tempo Avremmo dovuto aspettare Prima di poter Acciuffare questo Alex Shadney Invece l'abbiamo preso Immediatamente Quindi chiamiamo un trasporter Per fortuna I soldi sono al sicuro Quindi siamo riusciti A riprenderci i nostri soldi Questo tizio Naturalmente finirà Nella corte di giustizia Vedremo che cosa Ovviamente è colpevole Perché l'abbiamo beccato Proprio mentre lo stava rubando Hanno appena fatto cadere un palo Ok Aspettate Vado a controllare Chi è quel tizio Che ha appena fatto cadere un palo E per quale motivo Sta correndo così tanto Vediamo Potremmo fare l'ultima chiamata di oggi Oppure se non lo troviamo più Altri due veicoli Vedete della polizia Ma non so se effettivamente Fossero all'inseguimento Quindi vediamo se lo riusciamo a trovare noi Sospetto Se no direi di no No Ok ragazzi ormai è scappato Quindi entriamo dentro questo parcheggio E direi che terminiamo qua Alex Shadney è stato preso Dalle autorità E ora ragazzi direi di terminare Quindi Grazie a tutti della visione Lasciate un like Iscrivetevi Entrate nel gruppo Telegram Che è in descrizione In descrizione c'è anche il link Per comprare la mia maglietta ufficiale La mia felpa ufficiale E soprattutto Anche questo gioco Scontatissimo E niente ragazzi L'ultima cosa che vi voglio dire È che io a Romics ci sarò Ad aprile Quindi se volete venire Ci sarò io E probabilmente anche altri youtuber So che qualcuno non verrà Però comunque sia Non fa niente Grazie ancora Mi raccomando Lasciate un like Negli ultimi due episodi Siete stati veramente Non so neanche che cosa dire Veramente Straordinari E niente Arrivederci Vedete che la vittima È lì in basso a sinistra Quindi adesso possiamo usare la corda E direi di calarci Quindi caliamoci noi E andiamo a prendere L'infortunato Ok perfetto E andiamo a prendere